Andiamo a parlare di seconda e terza categoria, seconda categoria Gionelle, terza di Girone B Provinciali, chiaramente Girone Ciociaro, da parlare appunto dei risultati, sesta giornata aveva la seconda categoria, i Briganti Idri in attesa alcune del ricorso legato appunto ai fatti dell'altra domenica fuori casa, ha pareggiato in casa contro l'Accademy Sabotino Mare, mentre la formazione del Vintex Gaeta ha perso fuori casa contro San Mattino Calcio 2-1, buona la situazione appunto del track della Cina, batte 2-0 il Ciceo FC, settimana di riposo per il 21 Calcio che dovrà provare a riprendersi dopo una fase iniziale in positiva, è rimasta bloccata nella classifica a 9 punti. Per il prossimo turno, settima giornata, è una giornata che deve dare delle risposte ad alcune formazioni, abbiamo il nuovo San Martino Calcio che se la vedrà con la setina, Vintex Gaeta che giocherà in casa contro il Minturna Calcio, quindi derby appunto del sabato ore 14.30 al Ricinello appunto di Gaeta, il Circeo Città di Maenza e ancora Brigantiti Corri Monti dei Pini fuori casa e Norma Traccana Terracina. Per la terza categoria provinciale, il girone B, ripeto, il girone appunto Ciociaro-Pontino abbiamo appunto la Polisportiva Gaeta che è venuta in questa settimana scorsa che è passata da una sconfitta casalinga d'opera dell'Unità di Castelforti dopo una prestazione sicuramente positiva, ma la compatta Uniti di Castelforti è riuscita appunto a sbloccare il tutto con un rigore e quindi chiaramente poi il resto è riuscita appunto a difendere questo risultato. Vince invece in trasferta la Vigor Gaeta in casa della Sant'Ambragio Calcio, quindi altro risultato positivo con il team Gaetano e ancora la formazione del Penitro che comunque non gioca a riposato per questa domenica e questo weekend. Prossimo turno, quinta giornata di andata, visto che siamo alla fase della zona di andata, Penitro sarà fuori casa contro l'United Castelforti, Vigor Gaeta a fronte allo Sporting Club Cassino e la Polisportiva Gaeta che dovrà necessariamente riscattarsi e dimostrare di essere formazione di rango, se la vedrà con il Coreno Royal fuori casa, quindi vedremo come andrà quest'altra domenica.